Grazie a tutti. E' fatta dai pizzicati e dai violini. Adesso sentirete come vi va a dire che a trasformare il pizzicato dei violini che sembra l'acqua che cade sulle temole. E dentro i contadini sono contenti intorno al fuoco perché stanno al caldo. Le gocce di pioggia. 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 Grazie a tutti. Di Valdi dice buona, fulmina e ci sono le saette che troncano il grano, che troncano il capo alle spighe di grano. E questo non è un temporale, è quasi un tornado, una cosa drammatica. Sentirete come di Valdi lo fa bene con dei suoni che vanno su e giù, con delle scale cromatiche ascendenti e discendenti. Usiamo una cosa molto, molto suggestive. Il temporale estivo di Valdi. 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 Noi siamo pronti a rispondere.